Ciao ragazzi Ciao Grande Grande Volevino Ciao 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 Close that Ciao Guarda un po' cosa ti butto lì Oh raga, facciamo un po' di cinema Va bene dai Ma qual'è il film più bello del mondo? Ma cosa fa il cerchi? È il cacciatore di Michel Cimino, dicono Yippee Bravo Ma perché non facciamo anche noi dei film? Oh raga, ma facciamo gli YouTube Non si può dire Oh, ma è una buona idea Sì, sì, anche per me è una buona idea Wow Ve l'avevo detto che era una buona idea Raga, ma su cos'è? Potremmo fare i video? Sì Un po' di tutto Buona cosa come? Sì, un po' di fametta ce l'ho Gli diamo la pizza Va bene, dai Davanti Buonasera ragazzi Buonasera Ecco la pizza Grazie Buonasera Buon appetito Grazie alla magia Grazie mille Buonasera Buonasera Amici Statta Mi tenendo una festa Non mi fai bene Buonasera Intanto cosa c'è mio? Stagli questa e questa Non mi sembra si pendeva male Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie a tutti.